Sono partite oggi anche nelle Marche le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domani giovedì 16 dicembre inizieranno le somministrazioni. Sono quattro i punti vaccinali riservati ai bambini nella provincia di Pesaro-Urbino, l'ospedale di Muraglia a Pesaro, l'ospedale di Urbino, l'asl del distretto di Cagli e la casa della salute a Montecchio di Vallefoglia. I genitori che lo desidereranno potranno prendere appuntamento attraverso il portale, utilizzato fino ad oggi anche per le altre fasce d'età, oppure con il numero verde 800 00 99 65, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Per Cagli e Vallefoglia la prenotazione potrà essere fatta anche tramite il proprio pediatra di fiducia. La platea dei bambini vaccinabili nelle Marche è di oltre 92 mila, di cui circa 20 mila nella provincia di Pesaro-Urbino, 9 mila a Pesaro, 8 mila Fano e la parte restante ad Urbino. I bambini riceveranno il vaccino Pfizer con una dose ridotta pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti. Poi una volta fatta la prima dose dovranno fare richiamo a 21 giorni di distanza. Un argomento, quello della vaccinazione ai più piccoli, che divide i cittadini. Sono diverse le mamme che hanno ancora dubbi e che probabilmente opteranno per non farlo. Altre invece sono già decise a procedere con la prenotazione. Super contraria per carità, no no no, non ci siamo proprio. Hanno i loro anticorpi e queste cavolate che dicono che sono loro che trasmettono il virus, cioè proprio no, cioè sta girando anche tra i vaccinati quindi voglio dire assolutamente contraria, bisogna informarsi. Cinque anni lo faresti oppure no? No. No. Quindi contraria? Sì. Motivo? Perché non mi sembra una cosa utile, cioè non mi sembra una cosa necessaria quindi penso che non sia giusto esporre i bambini per una cosa che non è poi così necessaria insomma. Si poteva fare a meno, era meglio ma con questa cosa non si sa come andremo a finire quindi secondo me toccherà farle, ne abbiamo fatti tanti di vaccini quindi. Sui figli quanti anni hanno? Una è qui, c'è una 22 e una 30 quindi c'è un nipotino quindi se è il caso di farlo lo faremo. Per il momento non sono favorevole, vorrei sinceramente che valutassero un po' meglio, se no sono favorevoli ai vaccini. Però per i bambini lei dice no. Per i bambini questo vaccino qui che andrei con cautela, per questi fragili sicuramente sì, però andrei con cautela. Secondo voi è un po' azzardato fare i vaccini anche ai bambini oppure no? Io personalmente sono vaccinata, anche lei comunque per l'università e tutto, ma anche se non fosse stato insomma obbligatorio tra virgolette l'avrei fatto comunque. Adesso cinque anni magari un po' piccola come età, però già dai 12, 13 anni, 14 insomma che si inizia già a stare anche in contesti molto più, comunque scuole medie poi già i ragazzi escono in gruppo, potrebbe considerarsi un'opzione. Non è favorevole né contraria, insomma non sta a me decidere. Facciamo aggiungere la sua amica, faccio 15 anni, è troppo presto, favorevole, contraria? Allora io ho una sorella di 12 anni e comunque io a lei glielo farei fare comunque e per i bambini invece di 5 anni mi sembra una cosa molto azzardata comunque.